Musica Una buona giornata, buon sabato, telespettatrici e telespettatori di TV7 bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde in via del tutto eccezionale al sabato in questa settimana benvenuto nei nostri studi anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani Grazie, buon sabato a tutti In questa Sindaco che è una giornata importante perché sono in corso le elezioni provinciali ne parleremo più avanti nel corso di questa puntata perché lo sappiamo lei oltre a Sindaco della città capoluogo è anche Presidente della provincia quindi magari faremo un po' il punto nella seconda parte di questa trasmissione su quelli che sono anche i compiti della provincia perché è un ente per così dire di secondo livello ma non è da sottovalutare perché ha tematiche anche importanti da gestire cominciamo però parlando di Padova, di Padova città e lo facciamo sul fronte della mobilità perché insomma è un tema importante per la città lo sappiamo, è un tema caldo anche perché in questi mesi, in questi anni la città da questo punto di vista sta subendo una piccola, grande rivoluzione soprattutto per le due nuove linee di tram attualmente in realizzazione ma la mobilità di una città come Padova passa anche dagli autobus perché insomma non dimentichiamocelo che ci sono anche gli autobus e anzi attualmente sono una fetta molto importante del trasporto pubblico padovano una flotta, quella degli autobus a Padova, che si sta rinnovando vediamo come La flotta di Bus Italia Veneto è sempre più green ed ecosostenibile attualmente il parco mezzi che percorre il territorio padovano conta 17 autobus elettrici di questi 5 sono utilizzati per la linea 16 la linea che collega Ponte San Nicolò al capoluogo al momento è l'unica percorsa interamente da mezzi di ultima generazione gli altri mezzi di questo tipo sono invece utilizzati nei percorsi extraurbani in particolare nei collegamenti della città con la zona dei Colli Uganei si tratta di mezzi realizzati in Europa da un marco italiano che possono trasportare fino a 80 passeggeri tra seduti e in piedi ciascun autobus è dotato di più batterie che consentono un'autonomia di guida di circa 300 chilometri e di sistemi di sicurezza dalla videosorveglianza a bordo a tutela dei viaggiatori e del personale alla mirror camera che consente all'autista la completa visibilità dell'esterno del mezzo una volta effettuato il servizio i mezzi rientrano nel deposito di via Rismundo dove vengono ricaricati questo deposito, il deposito di Pescarotto è il primo deposito completamente elettrico che consente la ricarica di fino a 17 autobus contemporaneamente a questa colonnina è possibile caricare simultaneamente due mezzi l'operazione è molto semplice dall'indicatore qua che poi è replicato anche a bordo è possibile vedere qual è lo stato di ricarica in questo momento l'autobus che vediamo a nostra sinistra è in fase di ricarica la batteria ha un livello di carica pari al 41% quindi per il momento quest'autobus non potrà essere utilizzato perché ovviamente è necessario per poter far servizio che la carica sia superiore almeno all'80% quindi mediamente in 4 ore e mezzo, 5 ore il mezzo è in condizione di poter riprendere il servizio ma non solo questo deposito nell'ottica di potenziare il numero di veicoli a zero emissioni sarà a breve realizzato un secondo impianto per la ricarica dei mezzi elettrici quello che stiamo realizzando il deposito nostro di Goldoni e Exurbano avrà 90 postazioni di ricarica quindi con una centrale da ben 9 megawatt di energia i lavori inizieranno subito a Pasqua a fine mese di marzo e inizio aprile e entro l'estate avremo tutte le postazioni disponibili e potremo quindi ricaricare presso quell'impianto gli ulteriori mezzi che arriveranno nel corso dell'anno Insomma, Sindaco, un trasporto pubblico quello padovano che si sta rinnovando non solo per quanto riguarda il tram di cui abbiamo parlato più volte ma in questo caso anche per quanto riguarda gli autobus Ma quando c'è il tram va rifatto completamente il panorama sotto l'aspetto viabilità perché il tram ovviamente ha un suo percorso chiaro e preciso poi sotto l'aspetto di inserimenti si usurrà ovviamente gli autobus che saranno elettrici sono circa centinaia di elettrici oppure il classico diesel però cambierà completamente il panorama non solo per quanto riguarda il tram perché cambierà il modo di muoversi per cui sarà una vera rivoluzione bisogna aspettare nel contempo sta arrivando moltissimi perché abbiamo mezzi vecchi quelli sono arancioni sono proprio mezzi che mai lasciano il tempo che trovano loro parlo di bussette hanno già fatto acquisti la casa madre vuol dire il ferroviario stato aveva già aderito a dei programmi di acquisto è che tutto il mondo sta cercando buss elettrici o buss di nuova generazione per cui faranno anche difficoltà per fortuna hanno fatto ordini in precedenza hanno già dei vantaggi a questo aspetto del tempo però si fatica perché tutti vogliono mezzi elettrici nuovi sono fondi europei su questa cosa per cui tutti saranno cambiando la mobilità in questo caso sono mezzi importanti nuovi che danno sia sotto l'aspetto ecologico sia sotto l'aspetto di sicurezza funzionano benissimo ma progressivamente vorrete portare tutta la flotta in elettrico? no no non tutta la flotta sarà circa se non sbaglio il 30-35% sarà elettrico tutto adesso sarà diesel ma quando sei ecco sei diesel non dico che inquina niente ma inquina pochissima è cambiato anche su questo aspetto per cui sono due cose diverse chiaramente l'elettrico però ha un difetto che porta a meno capacità costa molto di più è certo e poi insomma abbiamo sentito dal direttore appunto di buss Italia Paribelli che diceva ci vogliono circa 5 ore 4-5 ore per caricare un mezzo elettrico che per carità non è pochissimo poi immagino che non possono neanche essere caricati tutti insieme insomma quindi anche l'elettrico ha ovviamente qualche criticità infatti fa un via godone è un sensore di deposito nuovo con tante colonine che hanno una potenza molto diversa dai classi la colonina ovviamente in cui si carica l'auto anche l'auto a casa ognuno ci impiega 5-6-7 ore per caricare delle cose che non sapevamo insomma perché montare installare un ponte lì in quella zona lì sarà fatto anche in maniera abbastanza particolare sì perché viene costruito diciamo a pezzi in maniera volgare in questa azienda e poi viene portato a pavola e montato in maniera particolare come si comincia da una sponda e si spinge fino a arrivare all'altra sponda in maniera tale non crea disagi sotto l'aspetto della viabilità per cui il montaggio del ponte non va a influire sulla viabilità cittadina per quanto riguarda auto e bici ecco ricordiamo che è un ponte in acciaio che verrà installato di fianco sostanzialmente al ponte di Volta Barozza e sarà dedicato solo al tram oltre che a credo una pista ciclabile se non sbaglio pista ciclabile c'è anche un pedonale solo in bagno di sicurezza certo quindi comunque anche in questo caso il tram non passerà dove passano le auto però avrà un ponte un ponte dedicato è ciclabile protetto ovviamente assolutamente è un vantaggio perché tra poco cominciano a montarlo manca poco per cui sarà un grande vantaggio anche sotto l'aspetto concettuale vedere il ponte che parte da una sponda e viene spinto fino ad arrivare dall'altra parte è affascinante sì insomma ovviamente ci saremo anche noi con le nostre telecamere di volta in volta a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori che se non avrà direttamente impatto sulla viabilità diciamo rimane comunque credo l'opera più rilevante per propedeutica alla nuova linea di tram sicuramente sì sicuramente sì per tutto il resto è stata normale assolutamente non poi il ponte che non sarà toccato per cui passare per la parte centrale questa è l'opera più rilevante sicuramente e quindi insomma sì credo che non dico che vi crei un po' di ansia però la controllerete con grande attenzione perché insomma poi anche qua non si può sforare con i tempi sì siete un po' in anticipo con i cantieri eccetera però l'intoppo è sempre dietro l'angolo può succedere sempre di tutto non si sa mai e quindi sono abituato a qualsiasi cosa mi crea ansia ormai perché dico quando terminiamo a maggio ma che è data a maggio maggio fine maggio io scrivo fino a maggio non sono molto ho tutti i appunti e quando arrivo a fine maggio chiamo l'interessato come siamo eh manca poco manca eh sono un po' maniaco dei tempi purtroppo non riesce a rispettare i tempi tra burocrazia tra impedimenti tra impicci tra questo e l'altro si fa fatica però ripeto quello che ho detto altre volte noi siamo giusti se non qualche giorno in anticipo per cui mi auguro e spero che sono quasi certo rispetteremo i tempi perché siamo parlo di entrambi ma anche delle altre cose rispettiamo i tempi bisogna dicono su una cosa perché dicono ma perché tutti si lavori in colpo solo è giugno 2026 oppure dicembre 2026 dipende non c'è alternativa non posso pensare di perdere risorse perché siamo dati lenti purtroppo mi dispiace un po' di sacrificio avremo una città diversa anche perché finora siete stati riconosciuti da questo punto di vista come comune virtuoso tanto che vi sono stati dati dei fondi in più però credo che si faccia altrettanto presto a tornare indietro quindi è bene è bene che ovviamente continuate a monitorare con attenzione quello che vi state realizzando che parte noi siamo riusciti a avere risorse per mettere la quarta cassa per cui questo è un grande vantaggio vuol dire abbiamo aumentato la capacità del mezzo e la qualità dei nostri cittadini che utilizzano questo mezzo perché sono delle ore che sono strappie nel mezzo per cui hanno capito il vantaggio perché il vantaggio del tram è uno solo che i tempi li aspetta uno e che non ancora dire vado giù perché tre mezz'ora passa vado giù tre quattro minuti aspetta e passa questo è un grande grande vantaggio ci prendiamo una verissima pausa torniamo tra poco con la seconda parte del sindaco risponde affronteremo insomma una grande novità che già i padovani sapranno insomma perché è presente in città già da qualche giorno una mostra molto importante dedicata a Monet di cui poi vi faremo vedere anche immagini davvero molto suggestive rimanete con noi a tra poco